Ciao ragazzi, sono il vostro Nero, sono Nero di fiducia e prima di andare a letto vi vengo a fare un video importante. Ha parlato Conte, ha detto praticamente siete in prigione, nel senso domiciliari. Punto. Discorso chiuso, fermarsi per ripartire più forti. L'avremo sentito, spero un po' tutti, visto che interessa veramente a tutti quelli che viviamo in questo bellissimo paese, soprattutto vengo a farvi un'altra notizia. Il calciatore, il difensore della Juventus Rugani è positivo al coronavirus. Quindi, è sintomatico, hanno fatto il tampone e il povero ha il coronavirus. Quindi, questa è una malattia che colpisce tutti. Grandi, piccoli, ricchi e poveri. L'Italia non sarà mai la stessa dopo questa cosa, e l'abbiamo capito. Soprattutto per questa cosa, io non ho colori. Tutti sappiamo quanto voglio venire da Juventus, no? Immaginate i suoi calciatori, ma bisogna lasciare stare un po' il calcio e pensare al dramma umano di questa cosa. Quindi, a me dispiace un forte abbraccio a tutte le persone che in questo momento hanno a che fare con quella malattia. Io personalmente sono di quelle persone a rischio, quindi devo stare molto molto attento. E quindi, ragazzi, bisogna davvero stringerci forti, però da lontano ognuno all'altro. Il mio abbraccio a Rugani, a tutta la famiglia, a tutti coloro che hanno a avere a che fare con questa brutta bestia. Questo è tutto, ora una notizia flash flash da parte mia. Ragazzi, se volete recuperare più gli altri video, sono all'interno di questo canale. Baccio e abbraccio, ciao ragazzi. Forza e coraggio, non forza Milan, ma forza e coraggio a tutti noi che viviamo in questo paese. Grazie.